Il professor Odifreddi spererà di non vendere il suo libro, altrimenti con l'ossessione che ha del commerciale rischia poi di passare dalla parte sbagliata. Beh, e invece i vanzini non si fanno... Lei parla del professor Odifreddi ma non è interrogato sul professor Odifreddi. Comunque, il professor Odifreddi ha sentito Caprale che dice da Napoli, vuole replicare? Sì, ho sentito, ma in realtà effettivamente devo dire che la preoccupazione di vendere non è la mia principale. Io faccio un altro lavoro, per fortuna non devo vivere dei miei libri, sono contento se la gente li compra, però non li scrivo per vendere. Spesso i libri, e anche i film ovviamente, si fanno per vendere e spesso la cosa si vede. Uno dovrebbe farli per dire quello che ha da dire e poi se il pubblico l'accetta essere contento. D'altra parte la stessa cosa si dovrebbe fare in politica dove si cerca di vendere, diciamo così, l'ideologia che la gente vuole sentire. Mentre invece uno dovrebbe proporre anche in politica qual è il suo programma e poi vedere se gli elettori lo votano, bene, ma non cercare a tutti i costi il voto degli elettori. Professore Odifreddi, lei conosce Caprara? Sì, sì, lo conosco di nome. Di persona no? Di persona no. Perché dimostra un particolare affetto. Quindi non ce l'ha con me personalmente, credo. Dimostra un particolare affetto nei suoi confronti questa notte. Allora, parliamo del film, Valerio, il film dei fratelli Fantina. Soprattutto sulla sua analisi di Hollywood, che è degno della guerra fredda. Allora, parliamo del film, Valerio, il film dei fratelli Fantina.